Andrea Loris è stato strangolato con una cordicella. L'esame autoptico parla di strangolamento, cosa diversa dallo strozzamento. In medicina legale, quando si parla di strangolamento, si configura l'utilizzo di una fascetta o cordicina utilizzata. La salma, intanto, del piccolo Andrea Loris non è ancora stata restituita ai familiari. Non si escludono al momento anche ipotesi di violenza o tentativi di violenza a scopo sessuale sul corpicino del piccolo. Si attendono, infatti, le analisi di laboratorio dei numerosi vetrini che sono stati applicati per conoscere l'esito dei quali occorreranno altri dieci giorni. Questi ulteriori elementi si aggiungono all'elenco degli oggetti ricercati ancora dagli inquirenti e che al momento rimangono oggetti misteriosi, quale appunto lo zainetto del piccolo e la cordicella con cui è stato strangolato. L'ispezione cadaverica ha rilevato anche la presenza di graffi sul volto del bambino. Anche questo rappresenta un ulteriore elemento di prova a carico del presunto omicida. Tra le testimonianze raccolte in queste ore anche quella del panettiere, dove si recava ogni giorno la mamma di Andrea per comprargli il panino. Sabato mattina, però, eccezionalmente, la signora Veronica non andò nella bottega.